ok due tocchi obbligatori all'esterno fuori del cinesino non si può entrare ok fuori dal cinesino la parte tecnica che vogliamo fare il nostro solo per la tecnica è separare l'uomo dall'avversario però adesso non volevo farci male tocco recupero palla presa già lì dentro rapido vai dima che non ti attacca presa dentro aspetta 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 toccato vieni giallo ottima palla ok bravo ok bravo